Allora questo faccia a faccia, sei un vero duro, stai sfoderando qua le corde vocali, tiri fuori il diaframma, tiro fuori la voce, chi alza la voce tu la abbassi troppo la voce, io la passo molto ma è naturale, perché ti dedichi alla radio il tuo vecchio amore, il vecchio amore che continua regolarmente su Radio Ketchup ogni giorno, bene e poi c'è una novità, si chiama Radio Tube, vecchio furbacchione, è una vecchia furbata che avevamo pensato insieme all'amico Franco Darmi, DJ con musica 70-80, alla nostra età, ah giustamente ritorniamo un po' indietro nel tempo rifacendo un po' un percorso nei video 70-80, anche quello il famoso holiday rap, bravo, grande Franco Darmi, grandissimo e questa idea ci è venuta così da un po' di tempo, ma ti ricordi una volta quando presentasti una, un ragazzo in vernacolo disse, io lo dico in italiano, ma insomma taglia i capelli e trovati un lavoro, disse simpaticamente, è vero però da lì è partito tu, tu un certo aplomb non hai, i capelli non li sono tagliati, un lavoro non te lo sono trovato, però mi sono inventato un po' di diversi metri, no, pensiamo ovviamente G-Style va in onda sull'ATV, canale 274 del digitale terrestre, il mercoledì alle 24, il giovedì alle 24 e 30, il venerdì alle 19 e 45 e il sabato alle 24 e 30.